Salve a tutti e benvenuti in questo video tutorial per capire come poter scaricare tanta musica gratis da YouTube, poterla ascoltare e poterla anche riutilizzare nelle nostre pubblicazioni video, attenzione, ripetisco, connesse ad un video, quindi sincronizzate ad un video, grazie appunto proprio alla licenza che YouTube e Google ci dà per poterli utilizzare. Allora, andiamo a vedere innanzitutto come arrivarci. Bene, basta che entrate nel vostro account di YouTube, andate nel Creator Studio, nella dashboard, a sinistra entrate oppure in gestione video, attraverso appunto gli appositi link, e poi a sinistra avete il tasto, il menu Crea. Nel menu Crea c'è la raccolta audio. Attenzione, allora, nel primo tab avete la musica gratuita, nel secondo la musica con pubblicità, e nella terza anche gli effetti sonori. Ora, se andiamo a vedere, oh, vediamo quella con pubblicità, che ovviamente è la musica popolare, quella proprio che viene venduta a tutti gli effetti, insomma, la musica più famosa da Gangnam Style, vedete la popolarità, addirittura, ecco, adesso See You Again è la canzone forse più popolare, però attenzione che potete vedere, se utilizzi questo brano nei tuoi video, non puoi monetizzare il video, e praticamente, però, te lo fanno, non dovrebbero toglierlo il video, però YouTube ti avvisa, guardate che non è certa questa cosa, cioè utilizzatelo, però non vi assicuriamo, non vi assicuriamo che il titolare dei diritti del copyright potrebbe anche rimuoverlo o bloccarlo. Uptown Funk, vedete, è bloccato, cioè, se voi utilizzate questa musica, viene bloccato in 244 paesi, e vi fa anche la lista di tutti i paesi in cui è bloccato. Thinking Out Loud, di Ed Sheeran, è visualizzabile in tutto il mondo, ma non si può monetizzare. Insomma, questa è la musica che, tutto sommato, non è gratuita, e si rischia anche, appunto, di avere il video bloccato, o comunque non si può monetizzare, non è gratuita. La musica gratuita, ed è scritta anche in bella mostra, però gratuita solo se sincronizzata ad un video, questa è la licenza che dice YouTube, ce n'è tantissima, è anche molto bella, per esempio, andiamo, innanzitutto, divisa per generi, vedete, da rock, reg, musica cinematografica, jazz, dance. Per esempio, andiamo nella musica classica. Nella musica classica abbiamo anche dei brani popolari, ovviamente, perché comunque è musica che, la cui opera è in pubblico dominio, tranne la registrazione, attenzione, non confondete la registrazione di una musica in pubblico dominio con l'opera in pubblico dominio. Cioè, per esempio, il Danubio Blu di Strauss è un'opera composta da Strauss nel secolo scorso, mi sembra, che è in pubblico dominio. La canzone, il brano, però la registrazione, questa che vedete anche, non è in pubblico dominio, perché la registrazione è un'opera di copyright, un'opera d'arte connessa, la registrazione si intende l'esecuzione, la registrazione è connessa all'opera. Quindi, la registrazione è una cosa dell'opera, l'esecuzione è anche un'altra cosa e l'opera stessa, cioè le note scritte, è un'altra. Abbiamo, per esempio, Bach, anche qui, ascoltiamo. Il famosissimo preludio di John Sebastian Bach, dal clavicembalo ben temperato, stupendo. Abbiamo, per esempio, andiamo a scorrere, vediamo un po', qualche brano proprio famosissimo. Ah, si può anche ordinare in base alla popolarità, credo. Oh, però dicevamo appunto, come poter scaricare, perché poi è questo il tema, è questo il tema. Vedete, ogni canzone ha una freccia, quindi scarica, silica scarica, e praticamente si salva nell'apposito, facendo salva, si salva nell'apposita cartella. Abbiamo una toccata e fu il re minore, famosissima, di Bach. Potete utilizzare sempre il tasto scarica, potete anche metterle mi piace, così, per Elisa. E così via il Can Can, Guglielmo Tell. Andiamo, per esempio, anche musica d'atmosfera. Ah, potete anche, oltre che per genere, averla divisa, per esempio, se ascoltiamo una canzone rock, averla divisa anche per atmosfera, per strumento, per durata e tra i preferiti. Ascoltiamo una canzone di musica rock. Ah, dura 5 secondi. Divertente questa. Vediamone un'altra. Ecco, si può sempre scaricare qui. Oppure atmosfera, non so, abbiamo un video romantico, romantico, clicchiamo romantico, sentiamo, ascoltiamo alcune musiche. Questo è un tango, oppure, non so, ci ispira una musica ritmo in blues romantica, Sweet as Honey. Eccola qua. Oppure, una musica, abbiamo bisogno di una musica per pianoforte, dobbiamo creare qualcosa con la musica per pianoforte, possiamo anche cliccare, ovviamente, oltre per Elisa, per esempio, possiamo anche, non so, ascoltare Bomba pa' sempre. Che per pianoforte non ci sembra, no? Vabbè, dove c'è, insomma, il pianoforte come protagonista. Ricordo sempre cliccare su scarica per scaricare la canzone, anche per la durata, dai 4 minuti e 35, per esempio, oppure meno di 30 secondi, ecco, drop it. No, ecco. 7 secondi. E così via. Oh, quindi abbiamo anche degli effetti sonori, che potete anche scaricare, questi, perché comunque non sono, queste sono registrazioni che Google regala, regala, YouTube anche, regala, fino a un certo punto, perché, ripeto, la licenza è valida sempre se connessa ad un video. Poi, nella licenza, bisogna anche andare a specificare, bisognerebbe anche andare a capire se, per esempio, il video deve essere un video di YouTube, o qualsiasi altro video potrebbe essere pubblicato in qualsiasi altro video, per esempio, anche, non so, un'altra piattaforma online concorrente a YouTube, che potrebbe essere Vimeo, Vimeo, oppure del Dailymotion, oppure Facebook stesso, oppure anche specificare se video intende, si intende anche il poter pubblicare su una TV, su una TV satellitare, su una TV di gilate terrestre, e così via. Però, comunque, la licenza parla, potete utilizzarli se sincronizzati a dei video. Quindi, teoricamente, dovrebbe essere per qualsiasi forma di video. Se invece noi vogliamo scaricare le canzoni e ascoltarle soltanto, lo possiamo fare tranquillamente, farci dei, non so, metterli sui nostri iPod, smartphone, e così via, iPhone, e così via, tablet. Se invece vogliamo, per esempio, per ipotesi, farne un CD e, non so, rivenderlo, questo non lo possiamo fare. Quindi, attenzione, questa non è musica regalata totalmente, ma è musica che viene data, diciamo, gratuitamente, per realizzare video, e soprattutto, poi, ovviamente, per pubblicarli su YouTube, che comunque rimane di gran lunga il portale che domina nel settore dei video. Ci sono anche, tutte queste musiche, le trovate anche nel settore audio dei video. io non vorrei aprire più di tanto altre schede, e quindi vi saluto ricordandovi che, appunto, per andare su, per trovare questa schermata, potete anche andare su, direttamente, scrivere sull'URL, sull'indirizzo, youtube.com, slash, cioè barretta, poi, tutto attaccato, audio library, con la Y finale, in inglese si pronuncia audio library, e poi, di nuovo, barretta, music, detto in spelling, cioè music, quindi, youtube.com, slash, audio library, slash, music. Potete trovare direttamente questa schermata, e poi, da qui, navigare, sui vari tab, per poter scaricare la musica da youtube. Quindi avete visto come poter scaricare la musica gratuitamente da youtube, in questo modo, che dovrebbe essere l'unico modo che youtube consente. Attenzione, quando vedete dei video che vi dicono, oppure dei portali, dei siti e dei programmi che vi dicono, scaricate il video da youtube, oppure scaricate il video per estraporarle, estraporare, l'M, estraporarne, l'M, P3, della canzone, youtube to mp3, no, quello è vietato. Cioè, scaricare video da youtube è vietato dal regolamento di youtube. E, quindi, anche scaricare le canzoni da youtube. Quindi, tutti coloro che diffondono informazioni, video e quant'altro che permette di scaricare le canzoni da youtube al di là di questa situazione, sono al 99,99% non conformi al regolamento di youtube e pertanto non si possono fare. Questo è quanto. Un saluto a tutti e scaricatevi queste canzoni per ascoltarle o utilizzarle liberamente nei vostri video musicali. Ciao a tutti!